La data del 2 novembre dell'anno 1944 è ricordata da Beppe Fenoglio come conclusiva dei 23 giorni della città di Alba. Il settantesimo anniversario è stato celebrato ad Alba con una manifestazione pubblica con la partecipazione delle città Medaglia d'Oro della Resistenza. In piazza San Paolo la celebrazione, poi il concerto alla ex caserma Govone per l'inaugurazione del monumento Albero della Memoria. L'opera, creata dagli studenti del liceo artistico Pinogalizio, nel progetto volto ad approfondire i temi della resistenza, è stata donata alla città dai ragazzi e dall'AMPI sezione di Alba.